Siamo qui oggi a presentare questo progetto, Grey's Lab, un progetto molto importante che vede la città metropolitana come capofila. È un progetto che è stato valutato come uno dei progetti migliori del territorio. Noi abbiamo bisogno di dare maggiore sviluppo e soprattutto di dare gambe ai nostri territori, quelli più fragili. Abbiamo 316 comuni nella città metropolitana, abbiamo dei comuni di frontiera perché sono territori lontani da Torino che hanno delle grandi ricchezze, ricchezze gastronomiche, ricchezze culturali, paesaggistiche che vanno tutelate. Abbiamo questa migrazione di cittadini che vanno verso la città. Noi sappiamo che nel 2050 il 70% della popolazione vivrà nelle aree cittadine. Abbiamo bisogno invece di pensare a una migrazione al contrario, a un ritorno ai territori montani e ai territori rurali. E questo lo possiamo fare solo, intanto, se ci crediamo veramente. Crediamo che questo sia importante non solo per il territorio ma anche per la città di Torino stessa. E quindi noi oggi presentiamo questo progetto con anche i nostri partner francesi che sono venuti. Siamo molto contenti, ci crediamo e lavoreremo sicuramente molto bene insieme.